Oh no! Hai già provato carta forno Domopak? Sopra la teglia Domopak stacca, sotto il pollo Domopak non attacca. Carta forno Domopak, la prima carta che non attacca. Se cominci con Oro Saiva, la vita è più leggera. Con Oro Saiva hai il gusto semplice delle cose vere. Oro Saiva, il buon biscotto leggero, col suo profumo di grano e il modo più naturale di dirsi buongiorno. Sono d'oro, il prodotto di Saiva. Mamma, una grande novità all'INES. I primi l'INES ad assorbenza differenziata. L'INES oro per maschietti, l'INES oro per femminucce. Più assorbenza davanti dove più occorre per i maschietti. Più assorbenza al centro per le femminucce. E poi guarda come sono belli e pratici. Hanno le linee guida, azzurre o rosa, per regolare la chiusura in vita in modo uguale. Dalla L'INES, l'INES oro per maschietti, l'INES oro per femminucce. I primi l'INES ad assorbenza differenziata, nella taglia grande super. Contatto a tu, il profilattico più sottile del mondo, sicuramente. Contatto a tu, per sentire quello che non si può dire. E quello cos'è? Un regalo per mamma. Un ferro da stiro. Di più. È Vapor Simac MX200. Un sistema da stiro che fa tanto vapore. Vapor Simac MX200. La mamma l'aiuta Simac. Prima di Natale, i babbi Natale fanno il mandorlato balocco. Poi gli angioletti ci mettono i fiocchi di mandorle e zucchero. E poi? E poi c'è Natale. Il mandorlato balocco ce lo mangiamo noi. Mandorlato balocco. La più buona magia di Natale. Oh no! Hai già provato carta forno Domopac? Sopra la teglia Domopac stacca. Sotto la torta Domopac non attacca. Carta forno Domopac. La prima carta che non attacca. Per la spesa è un buon mattino al negozio qui vicino. Percibarsi in simpatia. La craia è casa mia. E con sole 20.000 lire di spesa puoi vincere un viaggio per due persone in Finlandia a casa di Babbo Natale.